Pantano giunta, Greco è la tela di Penelope e degli assessori. Nessuna novità neanche oggi sul fronte della crisi politica dell'amministrazione Greco. Il sindaco continua a non scegliere in pantanato tra le mille richieste degli alleati. Il borsino di assessori vecchi e nuovi continua ad oscillare impazzito e gente che fino a poche ore prima era certa del posto adesso potrebbe addirittura essere pronta al passaggio all'opposizione. Timpazzo, documento SRR anche a Musumeci. Dopo l'assemblea dell'SRR4 della scorsa settimana il CDA predisporrà il documento da inviare alla regione. Il presidente Filippo Balbo parla di situazione preoccupante per la tenuta di Timpazzo che potrebbe andare verso l'esaurimento nell'arco di poco più di un anno. No Pass gelesi in piazza contro l'obbligo della carta verde. Poco più di una trentina di No Pass hanno inscenato sabato in piazza Umberto un sit-in per esprimere la loro contrarietà all'obbligo della certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro. Una manifestazione assolutamente pacifica, senza alcuna tensione, ma vigilata comunque da un importante schieramento di forza dell'ordine che si è però tenuto a distanza in virtù della tranquillità dei manifestanti. Referendum Cannabis, la legalizzazione e battaglia di civiltà. Sabato e domenica anche in città sono stati organizzati i banchetti in piazza Umberto e lungomare per raccogliere le firme a favore del referendum per la legalizzazione della Cannabis che in Italia ha già raccolto oltre 600.000 adesioni. Sono tante le sigle, politica e non, che supportano l'iniziativa referendaria. In città spingere per la legalizzazione anche diversi imprenditori del settore che stanno investendo nel settore della Cannabis a scopo terapeutico e commerciale. Lo sport, promozione Gela Football Club, vittoria travolto per 3-0. La capolista va in fuga solitaria e sigo tra il primato per tre settimane e considerata la sosta per dare spazio alla Coppa Italia. Contro il vittoria non c'è stata partita, tant'è che Pizzardi è stato totalmente inoperoso, gara condizionata dal vento trasversale che ha frammentato il gioco. Già quinta un'autorrete e il rigore di Scerra decidono la partita. Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale in apertura alla politica. Nessuna novità neanche oggi sul fronte della crisi politica dell'amministrazione greco. Il sindaco continua a non scegliere, impantanato tra le mille richieste degli alleati. Il borsino degli assessori vecchi e nuovi continua a oscillare impazzito e gente che fino a poche ore prima era certa del posto adesso potrebbe addirittura essere pronta al passaggio all'opposizione. Tutto è il contrario di tutto. Nel giro di 48 ore, dal pomeriggio del venerdì alla serata della domenica, gli equilibri della costruenda nuova giunta greco si sono costruiti e distrutti almeno tre o quattro volte. Il weekend insomma non ha portato consiglio al sindaco, che come una novella Penelope continua da oltre due settimane a tessere di giorno e a scucire di notte per non scontentare gli altrettanto novelli proci dell'ex ormai coalizione arcobaleno. La sensazione che si vive dall'esterno è quella di un primo cittadino impantanato nel fossato di sabbie mobili creato dalla sua stessa maggioranza, dove ogni piccolo movimento si peggiora l'affossamento. Il borsino di assessori vecchi e nuovi continua ad oscillare impazzito e gente che fino a poche ore prima era certa del posto adesso potrebbe addirittura essere pronta al passaggio all'opposizione. È il caso ad esempio dell'assessore al decoro urbano Peppe Licata, fresco di battesimo cuffariano e di ingresso nella nuova DC. Mentre fino a qualche giorno fa il democristiano sembrava inamovibile nel progetto del nuovo esecutivo, da qualche ora il suo nome non farebbe più parte della squadra immaginata da Greco, che avrebbe chiesto senza successo un nuovo nome a Vincenzo Cascino, ufficialmente consigliere di un'altra Gela, ma in realtà sponsor principale di Licata. Cascino avrebbe rifiutato l'offerta e se, come sembra, l'ex assessore al decoro urbano dovesse essere sirurato, sarebbe pronto a saltare il fosso in consiglio comunale, andando a rafforzare l'opposizione. Stesso discorso per il renziano Malluzzo. Anche lui all'inizio destinato a mantenere una poltrona sulla scorta della federazione tra Italia Viva e Forza Italia. Anche per lui, invece, sembrerebbe pronto il siluramento. In questo caso, però, a Renziani non verrebbe tolto spazio in giunta. A sostituire l'ormai ex assessore allo sport potrebbe subentrare l'attuale coordinatore cittadino Rochelio Pizzardi. Problemi anche per il nome indicato da Liberamente. Sembra che il sindaco abbia posto un veto sull'ingresso del commercialista Dario Lisciandra, situazione che potrebbe portare alla rottura con gli ex ribelli Grisanti e Casciana, che proprio venerdì avevano chiesto al sindaco di accelerare sulla scelta dei nomi. In tema di ribelli, torna intanto sempre più presente il nome di un altro componente dell'ex asse di Sicilia Futura. Antonino Biundo, infatti, potrebbe tornare in gioco come assessore di riferimento di uno dei consiglieri comunali più ribelli della maggioranza, l'indipendente Rosario Trenito, dato per parecchie volte vicino all'ingresso in Forza Italia. A proposito di Azzurri, sembrerebbe ormai certo, ma il condizionale è sempre d'obbligo quando si parla del sindaco greco, il secondo assessorato a Forza Italia. Ma qui entra in gioco il walzer delle deleghe. L'idea del primo cittadino sarebbe quella di suddividerle seguendo lo schema dei riferimenti politici in giunta regionale. Scelta interessante se non fosse che i rumors da Palazzo d'Orlean raccontano da settimane di un possibile azzeramento da parte di Musumeci in vista dello sprint finale pre-elettorale. Una situazione che di fatto pregiudicherebbe la strategia del sindaco, secondo cui ad esempio potrebbe esserci una staffetta dai servizi sociali ai lavori pubblici e viceversa tra la Zurrana di Agnoffo e i Valliardi, riferimento locale dei lombardiani. Una staffetta che di fatto favorirebbe l'ex titolare dei lavori pubblici che dopo le tante voci sui finanziamenti persi in questi due anni lascerebbe il settore poco prima dell'arrivo di un nuovo taglio, quello di quasi 2 milioni sull'edilizia scolastica, approdando ai servizi sociali dove invece diversi finanziamenti sarebbero in procinto di arrivare. Una scelta per nulla gradita dunque ai forzisti che dopo il lavoro di questi anni dell'Agnoffo si vedrebbero scippare l'assessorato al momento di raccogliere i frutti. Un po' quello che ha messo in evidenza l'ex vicesindaco Terenziano Di Stefano, che ha condizionato il suo appoggio alla riconferma alla guida dello sviluppo economico e che ha chiaramente detto al primo cittadino che non mollerà neanche su un eventuale secondo assessorato per una buona idea. Il quadro confusionario si completa con il probabile rientro dell'assessore al bilancio Danilo Giordano e con lui dell'Udc. Pare che a far cambiare idea al sindaco sia stata una telefonata molto accesa con l'assessore regionale Mimmo Turano. Questa ad oggi la situazione del Pantano Giunta, una matassa che comunque al momento sembra davvero complicata da sbrogliare. Difficilmente Greco scioglierà i suoi dubbi nelle prossime ore, mentre la città aspetta di capire chi la governerà nei prossimi mesi, sabbie mobili permettendo. E diamo uno sguardo al consueto Covid Report. Nelle ultime 24 ore riscontro di 11 pazienti positivi a SARS-CoV-2, tutti in isolamento domiciliare. 7 pazienti di Gela, 2 di Riesi, 1 di Caltanissetta, 1 di Niscemi. Ricoverato in degenza ordinaria un paziente di Riesi, un decesso a Gela, un positivo al SARS-CoV-2. Guariti 3 pazienti di San Cataldo e 2 di Gela. Dopo l'assemblea della SRR4 della scorsa settimana, il CDA predisporrà il documento da inviare alla regione. Il presidente Filippo Balbo parla di situazione preoccupante per la tenuta di Timpazzo, che potrebbe andare verso l'esaurimento nell'arco di poco più di un anno. Venerdì scorso il presidente della SRR4, Filippo Balbo, non era presente all'assemblea dei sindaci, tenutasi a Palazzo di Città, anche se ha comunque seguito attraverso il proprio vice. Sarà lui stesso, insieme agli altri componenti del CDA, a redigere il documento che verrà trasmesso in regione. Su Timpazzo, infatti, c'è forte preoccupazione, lo spiega lo stesso Balbo. Nel documento verranno riportate tutte le questioni che, fino ad oggi, sono state trattate dall'assemblea della SRR. Tutti i sindaci sono preoccupati perché si rischia di avere una discarica satura nell'arco di poco più di un anno. Il documento verrà sicuramente trasmesso in regione prima della 12 novembre, data prevista per la cessazione dell'emergenza, anche se probabilmente i rifiuti e i conferimenti ulteriori continueranno ad arrivare a Timpazzo. Il documento verrà, inoltre, inviato anche al presidente della regione nell'Omusumeci. Purtroppo, ad oggi, non ci sono certezze sulla durata di questa emergenza, che sta mettendo in difficoltà la discarica. Con 950 tonnellate al giorno, la situazione è diventata abnorme. Balbo, però, spiega che fin dal primo momento, quando la regione ha disposto l'aumento dei conferimenti, c'è stata una forte opposizione e una disponibilità, quindi non c'è mai stata. Balbo e il CDA, in base al mandato ricevuto dall'Assemblea della SRR, sanno di doversi cimentare anche con un nuovo piano d'ambito. La linea, però, già sembra piuttosto chiara. L'unico modo, secondo Balbo, per preservare la discarica è strutturare un ciclo dei rifiuti che punti su impianti alternativi, così da proseguire sulla via dell'economia circolare. Le aree limitrofi a Timpazzo, che sono state acquisite dalla SRR, possono essere utili per collocare nuovi impianti, visto che il vincolo riguarda esclusivamente la realizzazione di altri siti di conferimento. Invece Balbo esclude l'ipotesi di un inceneritore, che non è mai stato oggetto di discussione. Il presidente della SRR4, che nei mesi più caldi dell'emergenza è stato più volte su posizioni del tutto opposte a quelle del sindaco Lucio Greco, attende che proprio da Palazzo di Città arrivino indicazioni certe sul servizio rifiuti. L'avvocato Greco, anche venerdì dopo l'Assemblea, ha spiegato che si va verso l'eventuale costituzione di un aro con il comune che gestirebbe le fasi attraverso un appalto con gara pubblica, sostanzialmente staccandosi dalla SRR4 e dalla impianti SRR, che ha ottenuto l'affidamento in house. Greco ritiene che i tempi per il passaggio del servizio rifiuti alle impianti si stiano allungando più del previsto, ha scritto alla SRR, alla stessa impianti e alla regione. Balbo conosce le note del sindaco Greco. La impianti SRR ha risposto al sindaco e chiede di avere indicazioni precise, se il comune di Gela intende effettivamente andare verso l'aro, allora dovrà comunicarlo, così verrà interrotto il programma di acquisto dei mezzi portato avanti dalle impianti. La società in house non può acquistare circa 100 mezzi necessari per il servizio a Gela se il comune ha intenzione di gestire in maniera differente. Secondo Balbo è una questione interna all'amministrazione del sindaco Greco. Nessuna linea dura da parte dei vertici della SRR4 con Balbo che preferisce evitare lo scontro ma è l'affronte dei rifiuti nel pieno della crisi politica della Giunta Greco e un capitolo che può creare non poche fibrillazioni, soprattutto a Palazzo di Città. Il maltempo che si è abbattuto in Sicilia ha provocato danni enormi sia all'agricoltura che alla viabilità. C'è anche un morto, un uomo di 67 anni, scomparso ieri a Scordia nel Catanese insieme alla moglie di 54 che risulta ancora dispersa. Diverse auto sono state trascinate via dalla furia dell'acqua che ha trasformato le strade in fiumi in piena. La coppia si trovava sull'SP28 a qualche chilometro dal centro catanese di Scordia. A fare scattare l'allarma è stato un automobilista rimasto bloccato dentro la sua auto per la presenza di un fiume di acqua e fango e strada. Dopo essere stato salvato ha raccontato di aver visto la coppia uscire dalla propria auto ed essere travolta da una furia di acqua e fango. Quel corpo del 67enne è stato poi trovato a due chilometri dalla zona scomparsa mentre si cerca ancora la donna. A Gela intanto un albero ha danneggiato un'auto in via degli Appennini. A Caltanissetta, come ha ribadito il sindaco Gambino, la situazione rimane sotto controllo ed è per questo che sono rimaste aperte attività, scuole e uffici pubblici. Poco più di una trentina di No Pass hanno inscenato sabato in piazza Umberto I, un sit-in per esprimere la loro contrarietà all'obbligo della certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro. Una manifestazione assolutamente pacifica, senza alcuna attenzione, ma vigilata comunque da un importante schieramento di forza dell'ordine che però si è tenuto a distanza in virtù della tranquillità dei manifestanti. Sentiamo. Trieste chiama, Gela risponde, si è aperto così sabato pomeriggio in piazza Umberto il presidio dei No Green Pass, Gelesi, che sulla scia di quanto sta accadendo in diverse piazze italiane, sono scesi strada per manifestare il loro dissenso all'introduzione della carta verde per accedere ai luoghi di lavoro. Il manipolo di manifestanti, poco meno di una trentina, ha presidiato la piazza centrale del paese per circa quattro ore. Una manifestazione assolutamente pacifica, senza alcuna attenzione, ma vigilata comunque da un importante schieramento di forza dell'ordine che si sono però tenuti a distanza in virtù della tranquillità dei manifestanti. In piazza, gente comune e lontana dalle sigle di partito che fino ad ora hanno cercato di inquinare le proteste. Non a caso, i No Pass e Gelesi hanno scelto un giorno diverso rispetto all'altra mini-manifestazione organizzata la sera prima, sempre nello stesso luogo, dagli esponenti di forza del popolo. Chiari e frequenti nella manifestazione di venerdì sera i riferimenti più estremisti che si rifanno alla galassia dei Novax. Più moderati, invece, i contenuti della manifestazione di sabato che, oltre ai soliti contrari ai vaccini, ha portato in piazza anche gente che ha ricevuto anche la seconda dose, ma che comunque è contraria all'applicazione del pass che, a loro dire, violerebbe alcune libertà garantite dalla Carta Costituzionale. Voi vi chiederete il perché noi non accettiamo questo Green Pass? Semplice, perché va a calpestare i diritti fondamentali sangiti dalla nostra amata Costituzione, annullando con un colpo di spugna, velato da DPCM, i sacrifici, le lotte dei nostri padri costituenti. Solo per ricordare a noi tutti, cito alcuni articoli che purtroppo oggi sono calpestati. Articolo 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Questo Green Pass non ha niente di democratico in quanto ha creato solamente discriminazioni in danni i cambi della vita sociale di tutti noi. Articolo 3. Il combito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economica e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, imbediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale. Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. Non con questo Green Pass tutto ciò sta avvenendo meno. In piazza slogan e cartelli che riprendono le parole d'ordine delle proteste che stanno animando le altre città italiane contro una presunta dittatura sanitaria che imporrebbe le vaccinazioni anti-Covid attraverso l'obbligatorietà del certificato verde iniziata con l'arrivo del governo Draghi. Il 21 aprile del 2021 fu introdotto il Green Pass come certificazione per coloro che si sono vaccinati. Ma nonostante tutto non c'era ancora obbligatorietà per ciò che concerneva l'inoculazione. Poi, come un fulmino al Celsereno, quest'estate Draghi, Mende e Diabolica, in uno dei vari DPCM, decise di utilizzare il Green Pass come sortefugio per obbligare la popolazione a vaccinarsi in quanto senza tale certificato si andava alle limitazioni per quanto riguarda, per quanto concerne l'accesso in certi luoghi pubblici e in certe attività commerciali. Il presidio è andato avanti fino alle 19 ma i NoPass e Gelesi sembrano intenzionati a portare avanti la loro personale protesta a prescindere da eventuali nuove adesioni o dei numeri per adesso risicati. Penso che tutti siamo stati già abbastanza approvati da questa emergenza e dobbiamo fare in modo che non ne sopraggiungano altre. Dobbiamo ridare ai nostri figli la libertà che in questi ultimi 18 mesi è venuta meno. Non concepisco più il fatto non concepiamo più il fatto che bambini di scuola materna elementari e successivi gradi debbano ancora tuttora convivere con tutto ciò convivere con una finda libertà e noi stasera tutti i presenti chiediamo solo una cosa Libertà! 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 I numeri precisi non sono stati divulgati però la direzione generale di Aspa ha deciso con un provvedimento ufficiale sottoscritto dal manager Alessandro Caltagirone di disporre la sospensione dei dipendenti anche sanitari che non abbiano ancora adempiuto all'obbligo vaccinale contro il contagio da Covid. dalla ricognizione affidata al responsabile della gestione delle risorse umane di Aspa è emerso che non ci sono collocazioni alternative per il personale che non è ancora vaccinato. Una decisione che riguarda tutte le strutture di Aspa sul territorio provinciale la normativa in materia prevede un'eventuale collocazione in attività interna che non comportino il contatto con utenti o pazienti proprio per evitare il rischio di contagio. Nelle strutture di Aspa non c'è però possibilità di trovare collocazioni diverse per il personale che ancora è nell'elenco di quello inosservante l'obbligo vaccinale. Due vetture, una Fiat 16 e una Citroen C3 hanno impattato nei pressi della rotonda stradale che collega via Venezia alla via Butera ci sono feriti che sono stati trasferiti in ospedale sul posto sono anche arrivati i carabinieri lo scontro si è verificato alle prime luci del giorno in un tratto che spesso è stato interessato da scontri stradali. Sabato e domenica anche in città sono stati organizzati dei banchetti in piazza Umberto a lungomare per accogliere le firme a favore del referendum per la legalizzazione del cannabis che in Italia ha già raccolto oltre 600 mila adesioni. Sono tante le sigle, politiche e non che supportano l'iniziativa referendaria in città a spingere per la legalizzazione anche diversi imprenditori del settore che stanno investendo nel settore della cannabis a scopo terapeutico e commerciale. Sono oltre 600 mila le firme raccolte a livello nazionale a favore del referendum per la legalizzazione della cannabis un numero elevato di consensi tra i cittadini che adesso consentirà ai promotori di presentare i faldoni in cassazione per andare avanti nell'iter. Sabato e domenica anche in città sono stati organizzati dei banchetti per raccogliere le firme in piazza Umberto e a lungomare. Sono tante le sigle, politiche e non che supportano l'iniziativa referendaria. In città a spingere per la legalizzazione anche diversi imprenditori che stanno investendo nel settore della cannabis a scopo terapeutico e commerciale. David Melfa è tra i pionieri almeno a livello locale e supporta l'iniziativa. È tra gli organizzatori del banchetto informativo per la raccolta delle firme. Secondo Melfa la legalizzazione è una battaglia di civiltà che adesso il Paese è pronto ad affrontare. È una battaglia di civiltà perché paradossalmente in questo momento la legge dello Stato incentiva l'inciviltà nel senso che il proibizionismo non fa altro che incentivare i ragazzini a consumare cannabis e non solo quando noi per primi siamo contrari a che i ragazzini debbano consumare droghe leggere o pesanti. Quindi la battaglia di civiltà è perché dal momento in cui questa pianta venisse regolamentata non vi sarebbe più un incentivo per i ragazzini che sono portati dalla trasgressione innanzitutto a cadere nelle grinfie delle mafie che sono alla fine quelle che ne hanno un vero beneficio. Arrivare alle urne per l'obiettivo di legalizzare la cannabis consentirebbe anzitutto di rivedere il trattamento ancora troppo restrittivo previsto sia a livello penale che amministrativo. Secondo i promotori inoltre una legalizzazione depotenzierebbe il controllo del mercato in mano alla criminalità. Paradossalmente oggi vi è una situazione di inciviltà e di illegalità paradossalmente invece una regolamentazione che non vuole essere ripeto un incentivo ai ragazzi a dire facciamoci le canne al contrario potrebbe sbloccare un'economia enorme che in questo momento va a finire nelle mani delle mafie parliamo di miliardi di euro potrebbe sbloccare un'industria importantissima perché con questa pianta poi noi facciamo tante cose levando i pregiudizi quindi con una battaglia di civiltà e di legalità si potrebbe investire bene sappiamo il bisogno che abbiamo è una battaglia anche ambientale perché è una pianta ecologica per cui il paradosso è che la legalizzazione che chiediamo noi è la battaglia di civiltà oggi in realtà invece non vi è una civiltà è una legalità vera e propria insieme a Melfa un giovane produttore Kevin Nastasi che dalla Lombardia ha scelto di investire in città con la produzione della cannabis che proprio qualche settimana fa è stato oggetto di un pesante furto in azienda dove è stata legalizzata la cannabis è sceso tantissimo il debito pubblico le ASLA hanno informato che le malattie come la depressione di uno stato mentale sono diminuite radicalmente quindi è un aiuto anche a livello medico per le persone in difficoltà e soprattutto dobbiamo togliere soldi alla criminalità organizzata e la droga alla mafia perché quello è il flagello di questo di questo territorio infatti ne ho subito conseguenze importanti in questo periodo visto che ho avuto anche un furto in azienda importante che mi ha un po' messo in ginocchio ma noi non molliamo e puntiamo a risorgere rinascere e crediamo molto nel nostro territorio e nel nostro paese le firme raccolte a fine mese verranno depositate in Cassazione il referendum è promosso dalle associazioni Luca Coscioni Meglio Legale Forum Droga e Società della Ragione Antigone e dai partiti più Europa possibile Radicali Italiani Potere al Popolo Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana già da alcuni mesi è possibile aderire digitalmente la raccolta firme digitale è stata avviata infatti l'11 settembre scorso il sito internet di riferimento è www.referendumcannabis.it in città anche qualche esponente istituzionale ha posto la firma e tutte quelle raccolte saranno autenticate dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Virginia Farruggia l'inserimento del sistema portuale locale nell'autorità della Sicilia Occidentale viene visto come un importante risultato dai leghisti del gruppo locale il segretario cittadino Emanuele Alabiso richiama il ruolo istituzionale del parlamentare nazionale Alessandro Pagano Alabiso conferma la linea leghista dando centralità alla città inizialmente lasciati fuori dall'elenco delle infrastrutture che soffriranno di fondi secondo il decreto legge del 10 settembre del numero 121 che riguarda disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture siamo riusciti a non farci scappare quest'opportunità unica grazie a un costante lavoro risultato col supporto bipartisan dei deputati e le commissioni ottava e nona della Camera e il sostegno del nostro viceministro Alessandro Morelli Armi in un casolare sono due pastori che sono stati condannati dal collegio penale del tribunale in un casolare di contrada a Piana del Signore fu ritrovato un fucile per il PM della DDA di Caltanissetta sarebbe potuto servire a gruppi di mafia i giudici hanno però escluso l'aggravante di aver favorito la criminalità organizzata sentiamo I carabinieri arrivarono in un casolare rurale di contrada a Piana del Signore venne trovato un fucile nascosto sotto uno dei letti il collegio penale del tribunale presieduto al giudice Miranda More ha condannato due pastori il romeno Mario Aurelian Baudiu e il marocchino Youssef Aruru un anno di reclusione con pena sospesa e non menzione nei confronti dei due è caduta l'aggravante mafiosa contestata dai PM della DDA di Caltanissetta che ne chiedevano la condanna un anno e cinque mesi di reclusione ai due imputati i difesi dagli avvocati Laura Cace e Luisa Campisi gli investigatori arrivarono in un'indagine concentrata soprattutto su Giuseppe Alessandro Antonuccio si ritenne che il casolare fosse riferibile alla sua attività e che i due pastori fossero alle sue dipendenze successivamente armi e munizioni vennero ritrovate anche nell'abitazione di Antonuccio nei suoi confronti è comunque caduta l'aggravante mafiosa le difese hanno sempre escluso che l'arma ritrovata nel casolare potesse appartenere agli imputati che pare si trovassero solo da poco tempo in quell'immobile il collegio penale ha disposto la condanna ma senza riconoscere l'aggravante di aver favorito le famiglie di mafia secondo i PM della di Dianissena il fucile sarebbe potuto servire per l'azione di gruppi legati alla criminalità organizzata ipotesi invece esclusa dalle difese la macroeconomia non in chiave mainstream ma attraverso l'approccio convenzionalista istituzionalista e la sintesi dell'importante lavoro portato a termine da Alessandro Morselli docente di economia dello sviluppo all'università di Roma la Sapienza un testo universitario dal titolo profili di storia della macroeconomia dalla scuola classica e dibattiti contemporanei i fenomeni economici considerati in una prospettiva evolutiva e dinamica anziché come processi orientati all'equilibrio anche l'ultimo degli immobili gravato da misure è stato dissequestrato l'ha deciso la Corte d'Appello di Caltanissetta nel procedimento che riguarda i beni dell'ambulante Rosario Consiglio coinvolto nell'inchiesta antimafia Inferis la Cassazione almeno per gli immobili aveva già disposto l'annullamento e in appello è arrivata una decisione che ha disposto il dissequestro sentiamo Anche l'ultimo dei beni immobili oggetto di sequestro ai danni dell'ambulante Rosario Consiglio va dissequestrato i giudici della Corte d'Appello di Caltanissetta hanno dato seguito la scorsa settimana al responso che era già stato emesso dalla Corte di Cassazione i magistrati romani avevano annullato una precedente decisione di secondo grado i beni immobili riferibili a consiglio per gli investigatori vicino al gruppo di mafia degli Alfieri sono stati così esclusi da vincoli l'iniziale sequestro era stato attuato per un valore patrimoniale di circa mezzo milione di euro tra beni immobili e mobili la Cassazione ha confermato i provvedimenti sui beni mobili ma annullato per i beni immobili i giudici di appello nel procedimento bis hanno sciolto la riserva disponendo il dissequestro anche di uno degli immobili ancora gravato dalla misura su questo versante è stata accolta la linea della difesa dell'ambulante sostenuta dagli avvocati Giacomo Ventura e Salvo Macri i legali hanno messo in discussione il fondamento dell'intero sequestro con documenti fiscali e contabili hanno più volte spiegato che quei beni erano da collegare solo all'attività lavorativa di consiglio che attualmente ha giudizio per i fatti dell'indagine Inferis lo stesso ambulante ha parlato dei tanti atti intimidatori e dei danneggiamenti subiti con conseguenze pesanti per le sue attività commerciali per i legali che lo assistono sarebbe una vittima dei clan e non un affiliato i PM della DDA di Caltanissetta invece lo considerano vicino al boss Peppe Alferi L'associazione Pionieri e Veterani Eni ha promosso un evento per ricordare la figura di Enrico Mattei a 59 anni dalla sua scomparsa mercoledì 27 ottobre dalle 10.30 presso la chiesa di San Giovanni Evangelista sarà celebrata una messa in suffraggio per evitare piccoli assembramenti la corona di alloro sotto il busto di bronzo di Viale Corte Maggiore sarà posto da un fioraio incaricato sempre per prevenzione da Covid-19 anche il corteo previsto è stato annullato alle celebrazioni religiose sono stati invitati i soci Ape autorità e dirigenti Eni lo sport promozione Gela Football Club vittoria travolto per 3-0 la capolista va in fuga solitaria e si godrà il primato per tre settimane considerata la sosta per dar spazio alla Coppa Italia contro il vittoria non c'è stata partita tant'è che Pizzardi è stato totalmente inoperoso gara condizionata dal vento trasversale che ha frammentato il gioco già quinta un'autoreta e il rigore di sciarra decidono la partita Tutto facile per il Gela Football Club contro il vittoria la fuga adesso è servita squadra che ha vinto 5 partite su 6 ed in testa la classifica con 19 punti niente da fare per gli ospiti del vittoria arrivati al Vincenzo Presti con circa 100 tifosi al seguito la gara è stata anche condizionata dal forte evento ma la formazione di Francesco Evola è stata sempre nettamente superiore già dopo 13 minuti la squadra di casa è in vantaggio bellissimo il gol di Alex già quinta che lascia sul posto l'avversario con una finta e scaraventa sotto la traversa per il gol dell'1-0 il raddoppio arriva dopo appena 4 minuti dal cross basso del capitano Asia c'è la sfortunata deviazione di Rosario Iapichino per il gol del 2-0 il GLFC potrebbe anche dilagare al 25esimo già quinta sfiora il bis la palla lambisce il palo alla destra del portiere Mignacca al 32esimo l'unico squillo del vittoria nel primo tempo con un tiro di sinistro molto forte ma alto di Dioffu nella ripresa i ritmi calano in maniera evidente ma all'undicesimo viene commesso un fallo plateale sul capitano Asia e dal dischetto l'attaccante Scerra con un scaretto segna su calcio di rigore il gol del 3-0 definitivo poi la girandola di Cambi con l'esordio del neacquisto Fabio Campanaro l'unico brivido per la porta di Pizzardi arriva a 3 dal termine con il colpo di testa di Lauretta ma sulla linea spatola evita anche il gol del 3-1 il legge l'FC va in fuga il campionato si ferma domenica c'è la trasferta in Coppa Italia con il Raffadali i ragazzi sono stati per l'ennesima volta fantastici e gli devo fare veramente complimenti infatti era quello che oggi volevamo i tre punti a tutti i costi anche perché il campionato si ferma per due giornate abbiamo la Coppa Italia e questo per noi oggi era molto importante dico sempre ai ragazzi di pensare domenica dopo domenica e di guardare in avanti non guardare la classifica ovviamente siamo alla settima giornata dal giorno di ritorno ci pensiamo per il momento ci godiamo questo momento fantastico e ovviamente un applauso ai ragazzi perché stanno mettendo continuità impegno e tanto cuore questo cambio mi è dato tanto nel corso degli anni quindi sembra un'emozione tornare a giocare e soprattutto poi farlo con una squadra davvero che ha tantissima voglia di fare e tanto entusiasmo è un piacere giocare con loro ho trovato un ottimo livello sono allenati molto bene sono giovani che sicuramente nel corso degli anni faranno faranno la sua diranno la sua in altre categorie diciamo che questa è una categoria di passaggio speriamo di toglierci belle soddisfazioni e magari guardare il futuro anche in un'altra categoria oggi quello che contava era la prestazione siamo riusciti a sbloccare subito la partita e devo dire che poi ci è venuto tutto più facile abbiamo acquistato sicurezza minuto dopo minuto e siamo riusciti a conquistare i tre punti adesso con l'acquisto di Fabio Campanaro che ci darà una grossa mano anche dal punto di vista dell'esperienza devo dire che adesso siamo abbastanza completi sotto di due gol dopo solo una ventina di minuti contro il Campanarazzo l'SSD Gela rimonta di rabbia alla quinta partita di campionato di prima categoria i biancazzurri allenati da mister Mirko Fausciana iniziano però ben presto a reagire trovano il pari già nei primi 45 minuti prima il fallo dal rigore su Gerrizzo che ascia trasforma poi il 2-2 di Deoma in mezzo a occasione clamorosa per Gerrizzo nella ripresa altre due traverse di biancazzurri ma il capitano Ascia con un euro-goal sigla la rete del 3-2 in un campo ossico sia per il fondo in terra battuta che per le raffiche di vento che si sono abbattute al Toruccio la piana di mister Bianco l'SSD Gela ancora in testa da solo seguita dal Catania San Pio unico vero avversario attualmente dei biancazzurri domenica si ferma il campionato di Coppa dovrebbe affrontare il Pachino al Vincenzo Presti nel campionato di seconda categoria invece il Gela Calcio allenato da Daniele Genovese ha affrontato sabato pomeriggio al Vincenzo Presti l'Accademia Mazzarinese concluso il primo tempo con un 0-0 l'Accademia Mazzarinese sigla la sua prima rete nel secondo tempo portandosi in vantaggio sul Gela Calcio a soli 10 minuti dal fischio di fine partita il Gela Calcio conquista il pareggio sul calcio di rigore realizzato dal centrocampista Castania il basket la Melfast Gela Basket a caccia della sua prima vittoria nel campionato di Serie C gol dei risultati ottenuti nelle prime due partite disputate contro il Palermo e il Gravina hanno portato un po' di amarezza all'interno della squadra ma il quintetto di Bernardo voglioso di riscatto adesso pronta a disputare la terza partita oggi alle 19.30 la Melfast Gela Basket affronterà l'Orlandina Lab presso il Palafantozzi di Capo d'Orlando è tutto il nostro telegiornale termina qui per gli altri approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it grazie per averci seguito grazie per averci seguito